Sorelle e fratelli carissimi, siamo arrivati alla grande settimana, la Settimana Santa. Vorrei, ringraziando ancora una volta Telemax, che ci permette di trasmettere le celebrazioni in televisione, avvisarvi che, come ormai di consueto, alle ore 10 di domani verrà trasmessa la Santa Messa della Domenica delle Palme. E poi, come penso già sappiate, vi vorrei ricordare che il Giovedì Santo la Santa Messa verrà trasmessa alle ore 18, il Venerdì Santo, la celebrazione della Passione del Signore, verrà trasmessa alle 15, la Veglia Pasquale del sabato sera verrà trasmessa alle ore 23 e la Domenica di Pasqua di Risurrezione e la Santa Messa sempre alle 10. Ringraziandovi per la vostra disponibilità a seguire le celebrazioni in televisione e rafforzando la vostra speranza attraverso anche la mia preghiera e la mia benedizione di vostro Padre e Pastore, vi invito a continuare con perseveranza in questi giorni a vivere nel modo migliore possibile la nostra fede come singoli, come famiglie, come discepoli, figli di Dio e fratelli fra noi.